Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Lo rivendico con orgoglio perché uno Stato deve prendere delle risorse e metterle a sistema per cercare di far crescere l'economia e il Superbonus ha contribuito in modo significativo alla crescita del nostro Pino. Lo dicono migliaia di studi. Allora, Calenda non si fida a... Calenda non dica fesserie, le spiego perché. L'ufficio parlamentare di bilancio non le aziende. Io so che lei pensa che probabilmente Nomis ma dica bugie perché c'è quello studio che dice di un effetto di 195 miliardi. Non ci fidiamo di Censis che dice che è stato buono, non ci fidiamo dell'ordine dei commercialisti. Lei legge anche in modo sbagliato l'ufficio di bilancio perché cosa dice l'ufficio di bilancio? Dice che il contributo che ha dato il Superbonus è dell'1% se calcoliamo il Superbonus in quanto tale. Se calcoliamo l'effetto cascata è il 2% all'anno che diventa il 4% in due anni. Sai cosa significa? Il 4% del PIL sul 10% significa che ha contribuito per il 40%. Ma attenzione, possiamo... Evidentemente la Calenda non si fida neanche nei numeri dell'ufficio. Allora perché è stato tolto? Ma le dico questo. Questo è un investimento buono perché... Se faceva bene così tanto al paese perché è stato tolto? Ma scusi, perché il Superbonus... Qual è la sua idea, diciamo, della scelta politica? Adesso ci arrivo. Il Superbonus perché è stato importante? Perché in un momento di estrema crisi ha fatto ripartire il sistema dell'edilizia. Ha costruito, ha generato un milione di posti di lavoro e chi lavora nell'edilizia lo sa. Ha efficientato i nostri edifici. Ha ridotto le emissioni di CO2, parliamo di ambiente. E cos'era previsto? Cioè questa è la grande mistificazione. Era già previsto un decalage. Era ovvio che quello era un 110 che doveva esserci all'inizio e poi doveva calare. Infatti la norma lo prevedeva già il decalage. Perché è chiaro che non può stare al 110% sempre. Perché è stato tolto del tutto? È un errore. E le dico di più. Questi esodati che noi vediamo qui sono lì non perché è sbagliata la norma. Nel senso che è sbagliato il concetto del Superbonus, dei bonus edilizi, dell'accessione del credito. Perché quello ha funzionato. E l'accessione del credito e lo sconto in fattura, cioè che tu non pagavi subito, ha permesso ai redditi bassi di accedere. Perché sennò tu non potevi utilizzarlo. Ma attenzione, chiudo. Ma no, sta facendo un comizio da 25 minuti. Arriva un punto su cui siamo d'accordo e mi taccio. Il problema, sa qual è stato? Che l'hanno tolto dopo aver promesso di mantenerlo. E le dico di più, l'hanno fatto praticamente così, in 48 ore, dall'oggi al domani, mandandosi in grandissima difficoltà a quel mondo. Grazie. Grazie.